Il secondo corso della scuola politica provinciale, il primo con un grande successo in Savigliano, oggi siamo in un'altra città della provincia di Curia, Fossano, per l'incontro sulla comunicazione. Non ultimo, importantissimo, l'incontro che faremo il 26 di questo mese, in questo corrente mese sul federalismo fiscale e la sua attuazione sul territorio della provincia di Cuneo con grandi esponenti, partendo dal Ministro Calderoni, dal Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota e altri tecnici in materia del federalismo, così per smettire una volta per tutte i fattori che ci fanno evidenziare alcuni politici locali che a livello demagogico stanno facendo una politica contro la Lega, contro il federalismo, contro le riforme che stiamo portando avanti per la gente e non contro la gente. La nostra disponibilità c'è per far capire alla gente quali saranno le riforme che cercheranno di stendere questo sistema burocratico di questa Italia.